bene ragazzi bentornati in questo nuovo video io sono il creeper e questo video lo registro oggi ma dovrei caricarlo domani pomeriggio però è uguale allo stesso oggi siamo su rocket league doveva esserci un amico ma purtroppo non c'è per problemi e oggi ho intenzione di arrivare a 150 palloncini e prendere un altro uovo d'oro anche perché me ne mancano 3 questo qua lo apro e altri due li scambierò perfetto direi subito di andare in partita ci vediamo tra poco ok ragazzi eccoci in partita purtroppo è già iniziata perché l'ho dovuta iniziare subito come potete vedere sono abbastanza scarso non so giocare molto bene a rocket e vabbè e niente no l'ho messa alta e vabbè no ho distrutto lui invece di prendere la palla mannaggia e niente che poi il punto è che non riesco a giocare oh ci ho fatta gol di merda però comunque ci ho fatta scusate perché devo un attimo abbassare il volume che mi danno un botto fastidio ok comunque sono molto alti però va bene lo stesso non è andata proprio esattamente come volevo però non è andata controllo è rotto perché continuo a usare questo controllo che c'è l'anodico rotto e non posso utilizzo devo smetterla di utilizzare il controllo è rotto per giocare a rocket altrimenti non riesco a fare le cose belle no me l'ha tolta e vabbè non lo farai e invece l'ho fatto mi ha mandato in california sì vabbè questo sa anche volare non lo so fare qualcos'altro magari boh saper cucinarsi i toast dentro una macchina l'ho spinto via però va bene si può fare no? in realtà è anche un bene che io perda teoricamente perché teoricamente danno più palloncini se perdi perché è tipo un premio di consolazione anche se in realtà credo che questo video lo caricherò oggi perché boh c'ho la voglia di fare i video io l'ho assicata e niente l'ho mancato ho cercato di fare una volata però non ce l'ho fatta l'ho mancato sto per dire eh niente ha fatto gol e invece l'ha mancata eh niente ciao al turbo ciao più turdo di me come se te lo lasciassi fare e vabbè no 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 stavo rischiando di mandarla dentro più stavo rischiando di farmi autogol più io che lui e vabbè e comunque ragazzi si sono un hub ma se voi vi state chiedendo del perché io abbia tipo la Ronin non è neanche che ho shoppato è proprio perché me le ha scambiate un mio amico queste cose no? e quindi cioè niente è l'unica macchina bella che ho tra l'altro certificata credo che valga un poco di più certificata però va bene anche se non è che valga comunque più di tanto cioè contate che la Ronin vale 10 crediti quanto varrà la Ronin certificata? 20? o almeno è da quello che ho capito no è troppo veloce la palla ho fatto gol di culo però l'ho fatto sono riuscito a fare un gol di culo però ci ho fatto lo stesso ma scommetto che lo farà a me guarda no ok non l'ho fatto vabbè lo volevo dire c'è turbo c'è la vita amico mio scelgo te grazie amico mio per avermela passata in realtà sono anche un po' stupido perché non sto spingando tra l'altro 44 sono un po' stupido perché non mi farà il terzo gol amico mio eh lo fa per colpa mia sono scemo sono scemo sono tutto rincoglionito è in realtà non so se ho fatto bene perché credo che mi dia tipo 10 10 palloncini hai comunque un'altra cosa è mio carissimo buddha sas se stai guardando questo video mi da meno di 10 palloncini domani al compleanno del nostro amico ti picchio se mi da di meno di 10 palloncini domani ti picchio se mi da di più 10 o di più non ti picchio se me ne da di meno ti picchio quanta roba 13 non ti picchio no ho sbagliato ho messo pronto vabbè ci vediamo alla prossima partita ok ragazzi eccoci subito all'altra partita sempre con questo tizio che prima ho sono riuscito a sconfiggere non si sa come non si sa con quale forza ultrapotentemente divina io sia riuscito a fare quello che ho fatto no di un millimetro vabbè ovviamente il punto va a lui come al solito sì non so perché se tipo il punto va inizia lui allora diventa un po' un tiro fatto un tiro un tiro che culo bam un tiro fatto sono riuscito a tirarla dentro con un tiro cosa è successo? cosa mi è successo? questa cosa non è possibile eh non ci arrivo eh fa gol eh niente mannaggia eh vabbè possibile ma che dopo subito dopo che mi fanno un gol riesco a recuperare questa cosa non ha senso questa cosa letteralmente non ha senso o è culo no non è vera è tutta skills è da anni che continuo a spacciare il mio culo come skill però finchè nessuno lo sa ehm no no è veramente tutta skill sì sì assolutamente proprio tutta skill controller del casio eh vabbè no che palle intanto mo' lo rifaccio sì lo rifaccio perché sono bravo non perché avrò culo ma lei non ce l'ho stavolta il culo eh eh infatti eh infatti una volta non ce l'ho avuta il culo madonna quanto odio questo stadio che dice sei nel senso di un gol comunque ogni volta che si fa un gol dice qualcosa mi da fastidio non so se voi che avete rocket league vi è mai capitato io che questa voce vi dia fastidio però mi da fastidio un botto c'è dovete capire che se io sono un tipo che si vuole concentrare si concentra stavo scherzando non mi concentro non mi riesco a concentrare che merda che sono faccio schifare ma comunque dovete sapere che se io mi voglio concentrare io mi riesco a concentrare ma non devo avere parole attorno cioè non devo avere un tipo che dice senza 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 cioè no ne posso anche fare a meno l'ho mandato in culonia vabbè no e vabbè dai ero fianco sei a due fino alla fine magari recupero quattro sono solo quattro gol ma secondo me avrà tipo no non è vero perché sapeva anche già fare le cose prima quindi sì dai non ha chiamato nessuno ma sapeva volare sì sì era forte lui non so perché da quando ho ottenuto la Ronin ok da quando ho ottenuto la Ronin cioè mi capitano solo pro player perché cioè che cosa vi ho fatto di male scusate perché mi odiate perché Rocket League mi odia grazie godo 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 solo quattro gol ce la posso fare basta adesso mi concentro significa che non parlerò per un per tutto il resto della registrazione mi concentro basta grazie per lo spintone brutto bastarbolo mamma mia mamma mia grazie 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 tu brutto essere immondo vabbè questo è il volatile nooo vabbè che palle che palle va gente che non schifo vabbè dai ce la posso recuperare altri quattro gol ne ho già recuperati due se stavo scherzando non ce la faccio eh troppo 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 vabbè e vabbè e vabbè allora ragazzi sono crashato semplice sono crashato e quindi niente 140 me ne mancano 10 direi di fare un'ultima partita e niente ci vediamo tra poco ok ragazzi eccoci qua in partita e tra l'altro ho quasi fatto un gol ovviamente non riuscito perché boh faccio schifo però va bene uguale anche se non mi viene sta sti gol belli e infatti e vabbè me la sono autoparata da solo questa poteva essere questo è un gol suo eh guardate questo è un gol suo forse no a meno che io non gliela metta in mezzo il che succederà visto che sono scemo ok l'ho bloccato così almeno non può non ha potuto mettersela in mezzo sono scarso quindi l'ho mancata ovviamente però capita stavo per dire sto per togliermela da solo e invece e invece signori attenzione perfetto dai a me questa ho intenzione di vincerla me la stava per tirare fuori il palo se non arrivavo io se non arrivavo io ok ciao prova ad andare a recuperarla mi sa che ci riesce no se l'ho buttata dentro la sua ah devo saltare io ok via com'è che sto facendo così tanti gol all'inizio cos'è sta cosa scusate il bastardo mi ha spinto godo questo è il karma il karma il karma il karma il karma alvin cosa ti incazzi questo è il mio letto sentilo ma senti questo senti questo gatto del casio questo è il mio letto oh questo è il mio letto tu non mi devi rompere non è il letto tuo alvin aia 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 alvin alvin non mi riesco alvin 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 smettila di mordermi il braccio che fai mi mordi il piede ti dico smettila di mordermi il braccio mi viene a mordere il piede che è sta storia oh allora cosa fai ti dico non mordermi il braccio mi mordi il piede ti dico non mordermi il braccio mi mordi il piede mi vede cosa fai cosa fai eh si è bloccato eh si è bloccato ok siamo scarsi tutte e due me la sto per tirare fuori e invece no no alvin ti prego smettila vai evviva che bello ma allora sono forte mi sa che sei mi sa che abbandona si è abbandonato here comes the money here we go money 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 volevo ribaltarmi ma non ci sono uscito money money e comunque non ma solo 4 andrea ti picchio sta pingando 160 sta pingando 160 comunque buddhasas domani ti picchio perchè me ne ha dati solo 4 cosa stavano urlando fli flaflo fli flaflo fli flaflo savesta no vabbè basta anche perchè lo sanno tutti che soltanto nominare tiktok in un video te lo copyrightano quindi no grazie vabbè ehm boh penso che chiuderò il video qua no lo chiudo il lobby allora ragazzi ehm il video è arrivato alla fine se vi è piaciuto lasciate un like commentate se volete altri video di rocket ehm commentate con banana se volete altri video di rocket ehm iscrivetevi al canale anche se in realtà a me non me ne frega molto degli iscritti perchè non non ho intenzione di diventare uno di quegli youtuber grossi con gli iscritti grossi perchè mi continuano ad imitare grosso e niente noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao